ciao ragazzi bentornati a una nuova reaction oggi parlo in italiano perché ho visto che comunque quelli più attivi del canale sono tutti italiani quindi metto un bel videogioco adesso una reazione una reazione a uno dei migliori video giochi della storia che è age of empires la definitive edition come potete vedere che io ho ancora non l'ho attivato l'xbox game pass però lo attiverò appena vedo che comunque c'ho un miglior guadagno su youtube io vado parto alla grande con l'xbox game pass perché ci sono i migliori giochi del mondo sia per computer che per xbox voglio provarli quindi andiamo a vedere le immagini che sono in 4k anche in questo videogioco che ha fatto la storia del videogames affascinantissimo perché fai un percorso nella storia dell'umanità tra varie culture quindi quasi quarti vedi ci sono i grecci persiani egiziani l'impero cinesi ci sono tutte le popolazioni del mondo i romani una figata andiamo a vedere il trailer tutti questi trailer che state vedendo sono in 4k quindi spero che sia chiaro che con un cuore che con un cuore che non sia il buffering full remastered in 4k Ah, praticamente. No, hanno preso il mio gioco imprevo che il mondo è ora e l'hanno trasportato in 4K. Oh, no. Questo è ora. Oh, quant'è ora che ci ha passato la nuova sera? Oh, no. C'era la campagna, la troppo fuori. E ancora a me la cosa mi sembra. E ancora a me la cosa mi sembra. E ancora a me la cosa mi sembra. Questo sarà per la volta il primo che faccio lì di qua. Questo è un capo lavoro di video di me tutto il tempo. Anche se è vecchiotto però... ci sta che è uno dei miei videogiochi preferiti. Comunque avete capito che in questo canale sto portando voi i videogiochi più belli alla storia. Allora non ci sto provando. Quindi se vi piacciono queste reazioni. Iscrivetevi. Cliccate la campanella perché è necessario per le notifiche. E commentate perché anche voi dovete consigliarmi i miei videogiochi. Visto che siamo quasi 10.000 qualcuno che mi consiglia. Quindi al prossimo video ci facciamo.